Benvenuti a Oldville, una delle città con più storia del Midwest. Noiosa, noiosa, noio-a! Carta sumo platino, pezzo unico, il primo che entra se la porta via! La carta platino di sumo slammer, nonno Max, devo comprarla! Ferma il camper, fermo! Fermati, nonno! Perché non ci siamo fermati? Perché, nonno? Mi dispiace, ma si fa il giro turistico oggi. Andremo nel tuo negozio dopo, se avremo tempo. Dopo? Il primo che entra se la porta via, dopo non la ritrovo! Ehi, andate piano, teppisti! Sta a sentire, se uso XLR8, nel giro di 60 secondi prendo quella carta sumo platino e torno, va bene? No, Ben, se ci fosse un'emergenza, non potresti intervenire, perché il tuo orologio sarebbe scarico. È solamente una carta da gioco. Puoi sopravvivere senza fino a stasera. Sembra morta, ma magari è una città vivace. La sola cosa da fare qui è morire di noia. La proposta è la seguente. Venire con me a fare un giro turistico senza i poteri, o restare qui a lucidare le ruote del camper senza i poteri. Ruote, grazie! Sarà come volare! La ruota può aspettare! Veloce come un cazzotto! XLR8! Nonno ha detto di andare al negozio più tardi e mi pare che abbia anche detto che non devi usare i poteri. Beh, per essere precisi, ora è già più tardi. E nonno non ha specificato di non andare a prendere la carta senza i poteri, quindi sì, io sono a posto. Lo sai cosa intendeva? Gwen, carta di platino, di sumo, slammer! Pezzo unico nell'universo! Credo, se mi copri farò le faccende al posto tuo, per una settimana, ok? Due settimane. Accetto! Tirata della strada! Sparisci, sfidato! Qual è il tuo problema, amico? Sei tu il mio problema. Mi ostruisci la strada per il negozio di giochi e carte. Ah sì, davvero? Credo che dovresti rallentare un po', altrimenti... Ti sono passato in curva! E la carta platino è di Ben! Yeah! Oh, che bello, che bello, che bello, che bello, che bello! Oh, un Penny! Che meraviglia! Ambi, 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 ambi! Bell'atterraggio! Però ne è balsa la pena. Per una carta. Hai sprecato i tuoi poteri per una carta. E se accadesse qualcosa e ti servisse un alieno? Già, come se davvero potesse accadere qualcosa nella vecchia e noiosa Oldville. Dammi subito quella carta! E questo chi è? Billions! Billy Billions! Ridammi la mia carta! La tua carta! Sono arrivato primo, la carta è mia! Come si dice, chi dorme non piglia carte! Io voglio quella carta! E io ottengo sempre tutto ciò che voglio! Tutto! Quindi, finché non sganci quella carta... Questo rottame è requisito! Ehi, quello è il nostro camper! Chi dorme non piglia camper! Quando mi darai la carta, deciderò se ridarti il camper! Ben! Ben! Wow! Quei suoi giocattoli non erano niente male! Il nostro camper l'hanno rubato e il nonno arriva da un momento all'altro! Oh, giusto! Ma per fortuna ho anch'io il mio giocattolo. Scarico! Cosa può mai accadere nella vecchia e noiosa Oldville? Ciao, nonno Max! Ben! Ben! Vi siete persi un giro fantastico! Bene! Allora ho voglia di farlo anch'io! Giusto anch'io! Presto! Da che parte? Qui c'è un posto comodo, siediti! Beh, mi sorprendete! Ero convinto che dovessero rubarci il camper per vedervi salire su un bus a fare il giro di Oldville! Ha, 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 ha!